buongiorno sono pierpaolo zivi sono un assegnista di ricerca qui nel dipartimento di psicologia di sapienza ho svolto qui il mio dottorato sempre in psicologia e scienza cognitiva da allora mi occupo principalmente dello studio della flessibilità cognitiva intesa come quell'abilità che abbiamo noi esseri umani di adattare le nostre rappresentazioni mentali i nostri schemi di pensiero e aggiustare il nostro comportamento in risposta a dei cambiamenti ambientali a delle variazioni nelle circostanze che stiamo vivendo in funzione ovviamente del raggiungimento di un obiettivo che possa essere l'intenzione a portare a termine un compito gli esseri umani sono enormemente in grado di adattarsi a un'innumerevole varietà di condizioni di cambiamenti sia di portata diciamo più limitata diciamo cambiamenti più rapidi come passare da un compito all'altro in maniera veloce ed efficace ma sia cambiamenti più macroscopici di portata più ampia e se vogliamo anche diciamo che riguardano cambiamenti più lenti ad esempio l'adattamento degli esseri umani nel vivere in condizioni per così dire estreme come per esempio in ambienti polari io mi occupo di studiare la flessibilità cognitiva in questi due livelli sostanzialmente di scala il livello micro lo facciamo attraverso dei paradigmi comportamentali che utilizziamo in laboratorio per studiare quali sono le caratteristiche dei meccanismi cognitivi che supportano questa flessibilità cognitiva chiedendo per esempio ai partecipanti di svolgere dei compiti in rapida successione ad esempio categorizzare degli stimoli semplici come delle lettere in vocali e consonanti o dei numeri in pari dispari e analizzare quali sono i parametri del compito che consentono un migliore un minore diciamo una minore efficacia di questi processi di flessibilità oppure possono esserci delle circostanze quindi dei compiti che somministriamo ai partecipanti in laboratorio in cui individui devono in realtà inferire quali sono le regole rilevanti in una data condizione nell'esempio precedente le regole erano istruite erano esplicite ma ci sono ovviamente delle situazioni in cui noi dobbiamo imparare da soli quali sono le regole per utilizzare per esempio un oggetto quando ci approcciamo un nuovo oggetto e non ne conosciamo il funzionamento dobbiamo in qualche modo approcciarci per prove d'errori una volta capito il funzionamento e ricevendo un feedback di successo dall'ambiente allora continueremo ad utilizzare quella strategia bene lo sforzo mio e del gruppo di ricerco di cui faccio parte è cercare di identificare i meccanismi che possono essere sovrapponibili in queste due diverse circostanze e in questo ambito lo sforzo è quello di cercare di sviluppare e costruire delle metodologie di studio della flessibilità cognitiva che siano più naturalistiche più ecologiche che riguardino maggiormente il comportamento spontaneo in relazione a questo il mio obiettivo è quello del gruppo di ricerca in cui lavoro è anche quello di capire quanto di prestazionale e quanto di decisionale strategico ci sia in questi meccanismi di flessibilità cognitiva ovvero quanto riguardi la nostra capacità di svolgere un compito di applicare delle regole o di applicare degli schemi di comportamento o dall'altra parte quanto ci sia una scelta di applicare una certa regola a un certo schema di comportamento a questo riguardo diciamo questo aspetto lo studio maggiormente lo studiamo maggiormente in quei cambiamenti cui mi riferivo prima essere di portata più grandi più macroscopici facevo riferimento ai processi di adattamento che coinvolgono le persone che si trovano a dover vivere per lungo tempo in ambienti estremi caratterizzati per esempio da caratteristiche da parametri ambientali molto diversi da quello a cui siamo abituati per esempio la quantità di luce giornaliera negli ambienti volari la gravità nello spazio la quantità di ossigeno la disponibilità di ossigeno in alta quota oppure cambiamenti caratteristiche sociali per esempio il grado di isolamento confinamento che alcuni di questi ambienti che ho citato posseggono o di più recente esperienza che abbiamo fatto tutti durante il lockdown della pandemia di covid 19 ebbene in tutti questi contesti la flessibilità cognitiva ha molto a che vedere con l'incertezza e con la nostra gestione dell'incertezza dunque la flessibilità cognitiva è un'abilità che ci consente di avere molteplici spiegazioni molteplici rappresentazioni contemporanee dello stesso fenomeno dello stesso oggetto dello stesso evento sapendone però diciamo dandoci la possibilità di supportare l'incertezza di tollerare l'incertezza ma anche di generare soluzioni alternative a quei problemi incerti di cui non possediamo informazioni esplicite e specifiche poiché sono ambigui mal presentati e a volte nuovi dunque in queste circostanze la flessibilità cognitiva ci consente il pensiero divergente e certamente la creatività è un'abilità che ci consente di fare l'incertezza di tollerare l'incertezza di tollerare l'incertezza di tollerare l'incertezza grazie